L'ultimo prelievo, lo sportello di un istituto di credito risale alla scorsa settimana, 9.000 euro in contanti che un 70enne di Sulmona ha consegnato nelle mani di un'intera famiglia residente nella frazione di Bagnaturo, madre, padre e figlio, si allarga l'inchiesta sulla circonvenzione di incapace. Le fiamme gialle, tramite la ricostruzione di movimenti bancari, pedinamenti, riprese video, hanno scoperto che gli indagati, in particolare il padre, 57enne QC, le sue iniziali, coediuvato dai due familiari, figlio 19enne DC e la moglie 49enne MC, avrebbero sottratto solo all'anziano, alle prese con problemi psichiatrici, oltre 130.000 euro in un solo anno, con la scusa e la falsa promessa di fargli avere la patente di guida. Il 70enne, infatti, era rimasto coinvolto in un incidente stradale con la moto, finendo nell'ospedale San Salvatore dell'Aquila, dove era rimasto a lungo ricoverato a causa dei gravi traumi riportati. Si era messo alla guida del mezzo senza aver conseguito la patente. Una volta uscito dall'ospedale, l'uomo è stato avvicinato dalla famiglia di Bagnaturo, che man mano l'avrebbe persuaso e convinto che, tramite continui versamenti di denaro e benefici bancari, avrebbe voluto conseguire la patente di guida. La vittima faceva prelevi al banco, Marte poi consegnava i soldi o nella casa del loro aguzzini o direttamente strada, dove i tre aspettavano a pochi metri i loro finanziatori. Il 70enne, inoltre, non agiva da solo, ma per versare il denaro si faceva aiutare dal cognato, un 80enne di sulmona, anche lui finito nella rete della famiglia di truffatori. Così, insieme, nel giro di un anno, fino alla scorsa settimana, hanno versato 350 mila euro. Ad attirare l'attenzione della Guardia delle Finanze sono stati movimenti sospetti sul conto delle 70enne, 129 mila euro di prelievi effettuati in poco tempo. Così, gli inquirenti dovevano aver informato la procura si erano messe sulle tracce dei tre competinamenti e riprese video, che hanno permesso di ricostruire tutti i movimenti di quest'ultimi. L'altro giorno sono scattate così le perquisizioni a casa della famiglia delle vittime, con i finanziari che hanno sequestrato telefoni, computer, le ricevute e è avvenuto pagamento. Per questo sono partiti gli avvisi di garanzia per il 57enne, la 49enne e il 19enne. L'inchiesta in ogni caso non è chiusa. Le fiamme gialle stanno infatti ricostruendo la rete delle vittime, tra cui ci sarebbero anche anziani, a cui, con altre scuse, sarebbero stare sottratte in centi di cifre di denaro per un ammontare di centinaia di migliaia di euro.